Salve ragazzi, prometto che non sarà un unboxing stile high tech però insomma dopo tutto questo tempo un po' di suspense volevo aggiungerla all'inizio di questo video e finalmente è tornato un prodotto che tanti aspettavano e bene sì ragazzi finalmente il libro è tornato questa seconda stesura è stata un po' più complicata e ringrazio assolutamente di cuore Dali e Alberto che mi hanno aiutato soprattutto nella revisione dei testi che hanno permesso appunto la pubblicazione di questa seconda edizione conta sempre soltanto come vedete di parti scritte, non ci sono immagini ma i testi comunque sono adattati in modo da poter essere capiti anche senza l'ausilio delle immagini per comunque chiarimenti o altro ovviamente vi rimando a tutti quanti i miei contatti o comunque ai video che trattano fedelmente quello che ovviamente è scritto qui adesso seconda cosa, non voglio fare conti senza loste perché al momento che sto registrando non siamo ancora a cifra tonda ma grazie veramente sincero a tutti quanti voi perché siamo quasi arrivati a 300 iscritti ovviamente tutto questo, tutti questi video, tutte queste pubblicazioni, tutto quanto tutto lo studio che c'è dietro ovviamente è reso possibile grazie al vostro sostegno senza di questo ovviamente nulla sarebbe possibile e per ringraziarvi di questo in modo particolare per fino a non questa domenica ma alla prossima ci sarà un super sconto per chi volesse acquistare il libro insomma io ne approfitterei quindi ragazzi ci vediamo domenica per la seconda puntata sugli Shizuki come sempre grazie e amate la natura ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao